Faffiano, Maghette, Gori! Ma perché Gori? Scusa, stanno giocando! Ecco, lo vedi? Ma quale? Torpavide, lui! Con la calota bianca! Tutti i giorni gioca con il ragazzo! Ma questo gioco non lo conosco molto bene! Però è un entusiasmo! Fatta i gol, fatta i gol! Davide, fatta i gol! Non mi tocca! Devi saccare, ma devi al coccolone così! Mamma mia, come è bravo! Insomma... Guarda, guarda! Bravo, bravo, bravo! È molto bravo, vero? Bravo, bravo! Il fare... Il fare... Allora? Com'è? È pio! Molto pio! Bravissimi! Don Davide, le presento Monica! Oh, Monica! Finalmente ti conosco! Molto piacere, Don Davide! No, no, piacere mio! Proprio tanto, tanto piacere! Don Davide, una prestazione maiuscola! Grazie, Lucia! Scusatemi, ma sono in ritardo! Venite a messa anche voi? Sì! Ok! Andiamo! Io non me ne perdo una! Eh, ci credo!